Parti! Per via interno invece Sadoshi che capeggia quel gruppettino che vede anche Ramandolo vicino a questi insieme a Peiote e gli altri più arretrati. E' sempre in vantaggio agente Hunt all'interno di tutti Sadoshi, in corsie larghe invece sempre in quota Hill Royal, poi Radicofoni, Jack Samaranta devieta a recuperare Blue Air Tango in giubba nera con le stelle giande. Agente Hunt in fuga ai 250 finali da Hill Royal, sta recuperando bene Blue Air Tango, Sadoshi in corda, agente Hunt in chiara vantaggio, l'unica minaccia può arrivare all'interno da Blue Air Tango ma al margine di vantaggio di agente Hunt è di tutta sicurezza, agente Hunt conclude su Blue Air Tango secondo mentre per la terza moneta Sadoshi affianca Hill Royal. Missione compiuta per il favorito agente Hunt che vince in maniera molto molto tranquilla, Mirko Di Muro in sella per la scuderia Incolings ai colori, il signor Biondi al treno. Iscriviti al treno.